Immagini di volare sopra le tue frontiere. Cerchi qualcosa dentro ogni problema. Vuoi che il rispetto nasca dal rispetto. Trovi l'energia anche dentro di te. Dai alla parola energia nuovi significati. Pensi a una compagnia internazionale nel petrolio e nel gas naturale. Scopri Eni. E' quel modo un po' speciale di fare le cose che in giro per il mondo chiamano Enisway. Immagini di volare sopra le tue frontiere. Cerchi qualcosa dentro ogni problema. Vuoi che il rispetto nasca dal rispetto. Trovi l'energia anche dentro di te. Dai alla parola energia nuovi significati. Pensi a una compagnia internazionale nel petrolio e nel gas naturale. Scopri Eni. E' quel modo un po' speciale di fare le cose che in giro per il mondo chiamano Enisway. Un grande regista, Paul Voss, e una troupe di 60 uomini e donne in giro per il mondo per raccontare la realtà Eni. Una realtà complessa, fatta di duro lavoro, di tecnologia all'avanguardia, di spirito di frontiera, ma anche di rispetto per l'ambiente e per le diversità culturali. Un modo di essere e di fare che nel mondo chiamano Enisway. Bellissime immagini girate in tutto il pianeta, ma anche scene realizzate in studio, con scenografie accurate e complessi movimenti di macchina. La torcia vicino alla maschera. Salire poco poco. Beh così, così, così. Così, così, così. Roll camera. Action! Attrezzature speciali e sub-professionisti. Una colonna sonora calda e avvolgente accompagna la poesia delle immagini. È l'inconfondibile voce di Sting. La diversità dell'Eni sta anche nella sua multietnicità. Per Emi, energia è sinonimo di calore umano. Ecco perché è così attenta alle esigenze dei paesi in cui lavora. Lo spot racconta anche la capacità di operare in ambienti ostili e la sfida ai limiti personali, geografici e climatici. Come and try and be tested. I use the ones that I love the best. I can never know you're moving on from me. Anche per le immagini della campagna stampa sono state scelte location sparse per il mondo. Le fotografie di Peter Leveri sono state scattate nei luoghi in cui Emi lavora e in cui sta realizzando grandi progetti. Tutti i valori dell'Eni, insomma, si ritrovano anche nella realizzazione di questa campagna. Un grande impegno produttivo che coinvolge quattro continenti, zone impervie, un team di lavoro internazionale e grandissimi professionisti. Tutti impegnati a raccontare Emi, la sua realtà, i suoi uomini. Tutti impegnati a raccontare Emi, la sua realtà, i la sua realtà, i la sua realtà, i la sua realtà. Grazie.